Anticipazioni tempesta d'amore, mercoledì 22 gennaio 2020. Annabelle è disperata e non vede scampo. Alla sua festa di compleanno Valentina è scioccata nell'apprendere che Eva e Robert non sono stati leali con lei. All'inizio la notizia non rovina l'atmosfera del party, poi la ragazzina sconvolta fa perdere improvvisamente le tracce di sé, asserendo di essere troppo delusa e di non voler vedere più nessuno. Fabien è veramente disperato. Alphonse e Hildegard continuano ad essere ai feri corti. Il mattino seguente il signor Zombichler scopre che il suo puzzle da mille pezzi è stato composto per intero e correttamente tutta la notte. Chi lo ha terminato così in fretta? Sua moglie forse? Oppure qualcun altro? Valentina prende l'auto e si lancia in una folle corsa. Qualcuno resta a terra gravemente ferito sul marciapiede.